Coniugare l'amore per la montagna e la passione per gli sport velici. Tutto possibile grazie all'iniziativa Main Hard Day in Vela che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto al lago di Castel San Vincenzo. Un sito ora meta di turisti e degli stessi molisani. C'è un bel lavoro da fare, siete carichi di entusiasmo e quindi forse quella patia che regnava da noi poi l'ha stato un pochino combattendo, risvegliando. Sì è vero, abbiamo tanta passione del posto, siamo innamorati di quel lago e quello che stiamo facendo è stiamo un po' incorniciando questa meraviglia, dando dei servizi di qualità superiori rispetto agli anni passati perché abbiamo capito che investendo nel Molise sicuramente il ritorno c'è. Poi in questo periodo che l'effetto Covid e anche l'effetto mediatico che ha avuto il Molise di Covid Free sta dando dei risultati anche inattesi perché abbiamo da tutta Italia richieste di prenotazioni, di soggiorni e soprattutto abbiamo scoperto anche che molti molisani non conoscevano Castel San Vincenzo e quindi sfruttando un po' questo momento di incertezza sui viaggi all'estero e fuori regione stanno scoprendo dei posti per loro sconosciuti e stanno apprezzando molto la loro stessa terra, la nostra stessa terra, quindi è una unità importante. Dal 31 luglio a 2 agosto il vostro ruolo, come si concretizzerà? Allora dal 31 luglio ospiteremo questo evento che si chiama appunto un evento di vela dando possibilità ai partecipanti e ai visitatori di poter usufruire dei nostri servizi che quindi metteremo a disposizione per l'evento e per l'organizzazione stessa quindi potranno sia pernottare con tende e bungalow sia potranno venire a fare la giornata da noi usufruendo di barbecue, dei tavoli per passare quindi una giornata all'insegna dello sport, del turismo ma soprattutto della natura meravigliosa del lago di Castel San Vincenzo. Poi c'è anche una novità per chi vorrà provare, abbiamo delle tende sospese che stanno in mezzo agli alberi quindi si può dormire un po' volando in mezzo alla natura stessa quindi abbiamo la possibilità di offrire anche questo tipo di ricettività da quest'anno. Tutto questo si sposa anche con una certa economia nei costi? Ma allora diciamo io sono dell'idea che chi investe, se si investe bene, se si investe con criterio il ritorno poi c'è, è chiaro bisogna avere un po' di fiducia e purtroppo aspettare un po' di tempo. Il Covid inizialmente ci ha messo un po' in allarme perché pensavamo di dover allungare un po' i tempi di rientro però devo dire che in realtà stiamo fortunatamente recuperando quel tempo perso speriamo che anche la stagione ci assista, però per me investire è un valore nel Molise.